Noi siamo pronti a suonare ma non potevamo iniziare senza di voi. Eccola qui la nostra chitarra o meglio la sua perché chi la sa suonare. Allora questo è uno strumento che serve per tirare degli spaghetti un po' particolari. Diciamo un attimo a casa come abbiamo fatto il nostro impasto. Per mezzo chilo di farina abbiamo ridotto 500 grammi di vino ridotto sul fuoco del 50%. Quindi 250 grammi di vino ridotto freddo e poi 500 grammi di farina. Ridotto freddo significa che dopo che l'abbiamo ridotto sulla padella lo aspettiamo che si rinfreschi. E poi un uovo. Eccolo qua l'impasto che sta divino. Che ha questo colore un po' marroncino. Un po' rosseggiante. Ok. Bene, 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 bene. Mi piace questa ricetta. Qui siamo immersi nel sapore e nel profumo del mare, del pesce o tarallare. O tarallare. Ok. Nel nostro salvatore. E procediamo velocemente verso... Stendiamo insomma la sfoglia. Voi a casa l'avete fatto, tanto ormai abbiamo capito, abbiamo appurato che fare la pasta in casa è più o meno, vuole lo stesso tempo che cuocere quella che è 10 minuti, 12 minuti, 13 minuti, perché tanto la pasta fatta in casa si cuoce velocemente. Quindi risparmiamo il tempo di cottura e facciamo l'impasto. Tra l'altro facile e facile. Eh, oggi come si sente romantico. Oggi mi vai di cantare. Stasera che cosa cucini a tua moglie quando torni a casa? Stasera farò una zuppa. Eh, ovviamente, una bella zuppa di pesce. Passi dal tarallaro? No, farei una zuppa di orze e farro, con dei pezzettini di pesce dentro la zuppa. Bravo. Che dipensi, che dipensi. Bella, mi piace questa cosa. Allora, nonna papera. Ma perché non vedi a prendere? Vado io. No, vado io. Dai, ho capito già cosa devo andare a prendere. Vado io, vado io. Facciamo vedere alle signore a casa. Dove si tiene? Aspetta che qui mi è partito un pezzo, però io lo so sistemare. Allora, però, dobbiamo fare prima questo e poi questo. Eccoci qua, io sono prontissima. Che stai facendo? Faccio le chitarre. E tu fai sporchi, fai un casino. Ecco. Quindi, ecco. Va bene. Allora, è molto semplice. Mettiamo un po' di farina di semola rimacinata. Sì. E poi andremo. Guardate com'è facile. O meglio, com'è sembra. È facile, è facile. Semplice. Bisogna soltanto premere la spoglia su questi fili di nylon. Però se te la tengo, riesci a farlo meglio, no? Ok. Mettiamo un altro po' di farina sopra. E voilà, il gioco è fatto. E che ti pensi? Ecco qua, dai. Tiriamolo e lo... Che belli. Vedi? Sì. Eccoli qua. Fa un po' di casino. Eh vabbè, fa un pochino di sporcizia. Ah, vai, vai. Facciamo un'altra spoglia? Comunque sì, sì. Eh sì, stiamo in bastanza. Vedi, sotto qua non li hai tirati bene. Devi solo tirarli meglio. Guarda, sono appiccicato. Dai, dai, facciamone un'altra. E' il profumo di madre. Sì, sì, canta che ti passa. Si dice da noi, lo sai? Sì, però è bello abbinare il vino. Eh beh, del resto, siamo in Campania, è normale. Tieni, facciati questa. La sfoglia. E scusami, il fondo che punto è? Allora, il brodetto è pronto. Adesso appena bolle, il sugo e il condimento è molto veloce. Ma ti faccio vedere. Eh sì, perché già l'impasto è abbastanza notevole. Voglio dire, c'è comunque anche il vino e tutto il resto. Ricordiamo come abbiamo fatto invece quel brodetto lì? Olio, aglio e l'ischi di triglie. Una cosa semplicissima. Ma poi lo andiamo a dividere. Che facciamo? Lo coliamo? Sì, lo andiamo a filtrare. Ok. Ecco, questi già sono venuti meglio. Questi sono venuti un po' meglio. Vabbè, va. Guarda che casino che hai fatto. Ancora. Non è vero. Ok. Allora. Che cosa andiamo a fare? Adesso andiamo a fare un attimo il fondo di cottura. Sì, come lo facciamo il fondo di cottura, Domenico? Eccolo qua. Facciamo un fondo. Ok. Con olio. Sì. Vedi? Olio. Aglio. Aglio. Ovviamente. Che è rimasto che non abbiamo preso? Julienne di Finocchi. Julienne. La pentola deve essere già calda, l'olio deve essere già caldo o va bene anche a freddo? Dipende. Se a casa abbiamo una cucina con i fulchi, la facciamo prima riscaldare un po' e poi... Sì, perché questi sono più veloci a riscaldare. Queste riduzioni arrivano subito a temperatura. È vero. E si bruciano anche le cose molto più velocemente se non sei abituato ad utilizzarle. Le tridie ci mettiamo un po' di sale e un po' di olio. Queste ovviamente sono freschissime, quindi tu le lasci così crude? Sì. Ah, ok. No, poi le metto qui dentro. Ah, e comunque le fai saltare? Non ti preoccupare, ma ti faccio vedere... No, ho visto che le avevi già condite, dico bah, chissà. Perché potrebbe anche essere, visto che sono così fresche. Allora, tu stai andando con i pinocchi, che tra l'altro mi piacciono particolarmente, sia crudi che cotti, in tutte le salse, anche appunto a crema, mi piacciono molto. Ok. Quindi, fatto questo, andiamo a inserire... Inzichiamo le righe. Ok. Le mettiamo l'aglio. Ovviamente. Ovviamente. Ok. Bene. Facciamo lasciare un poco. Bello, bello, come si sente il profumo del mare che viene fuori dalla padella. Adesso ci filtriamo il dolgo di griglie. Il brodetto. Mamma mia, ragazzi, che profumo, che profumo. Semmi dalle chitarre, le caliamo? Sì. Aspetta, mo... Te le calo io, dai. Vai. Ecco qua. Ma però... E via, calare due chitarre. Un po' di sale. Ah, già. Mi è cascata la chitarra. Ok. Quindi è andata lì. Questa deve cuocere proprio... Eh, quanto, più o meno. Quindi ti recupero già subito il piatto. Trenta secondi, 40 secondi. Anche perché le fai poi saltare di là. Quindi la cosa diventa automatica. Ecco. Mamma mia, ma poi questo colore particolare, è bello. È una novità. Facciamo anche a casa un po' questo è lo spirito nostro, quello di creare delle ricette un po' più particolari del solito e poi presentarle ai nostri ospiti. Io ora mi alzo le chitarre, eh. Facciamo un figurone. Sì. Eccoti il piatto. Occhio. Sì. Ecco qua. Questo qua lo facciamo tirare leggermente. Ok. Prendiamo già un po' di contimento. Che bello, ragazzi. Io penso che va bene così. Eccolo qua, il nostro piatto, le nostre chitarre. Oggi abbiamo suonato, abbiamo cantato, adesso ce li mangiamo anche queste chitarre. Come? Chitarre al vino con triglie e finocchio. I sapori del sole, vi aspettiamo domani. Il nostro piatto è un po' di contimento. Il nostro piatto è un po' di contimento.